Gioco la spada, tappo 2, l'equipaggio, ti attacca, lui, poi c'è un tuo turno ancora, ti attacco con lui, con lui, con lui, con il 4-4, con lui, con lui, con lui, con tutti. Con tutti? Sì. Chi ha doppio attacco? Lui e lei. Tutti i pirexiani anche, uno, ah no, lo cautela, lo cautela. Occhio che questo va anche a travolgere adesso. E' un? Sei, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindi sedi, diciassette, è un diciassette in attacco. Doppio attacco travolgere. Legame vitale e cautela. Vabbè dai, canto li parlo lo stesso. Vediamo. Quelli coperti sono tutti i pirexiani. Incubati, scubati. Sette, otto, nove, dieci, 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 e sono venti. In realtà non si sa quanti sono perché conta i vanamente i segnalini. Cattordici, cedici, diciotto, venti. E sono quattro, tutti. Ok, questi ha imparato lui. C'è doppio attacco. Sì, 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 sì. No, no, che vero. No, non facciamo spoiler. No, no, no. Allora. L'altro mio 9-9 dov'è qua? C'è una gliss. Cos'è che sta attaccando? Tutto. Questo è un 4-4. A cautela. Anche questo a cautela, anche questo a cautela. Tutti i phyrexiani hanno cautela. Siamo al turno 4 dei turni. Dopo il fine tempo. Lui, lui. No, questo l'ho imparato con il 9-9. Con un 9-9. Lui, lui e lui. Questo. 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 E l'altro 9-9 qua. Lasci passare lui. Ok. Questo qui cosa fa? Qui 2 quanti sono? Importante, Reina. 20. Questi sono da 4. Dei 4 quadri. Ok, questi sono 20 danni che proteggi. 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 31, 32, 24, 25, 36. Aspetta. Cappo 2. Questo diventa un 4-4. E blocca. 36? Sì, vabbè, niente. Non ce lo faccio. Ti passano 1, 2, 3, 4 danni. Ok. io guadagno un altro 40 40 va bene va bene c'è tutti è fatta fatta top comunque biscottone beh prossimo turno prossimo turno era no anche se mi saliva il turno prima come faceva no non faceva non poteva fermare io attaccavo con uno e basta hai beccato il travolgere all'ultima all'ultima cosa l'ultima partita c'è l'ultima mano bella lì